Ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube una buona domenica a tutti voi siamo qui sul mio canale youtube per andare ad analizzare quello che è successo nel quadro estrazionale di sabato 20 di gennaio. Bene vi avevo detto che il 90 va in ripetizione dove è già sortito e questa tendenza continua a ripetersi. Vi avevo detto che dalle mie spie dalla spia 40 nazionale vi ricordo che avevamo vinto già il 2 di gennaio il 90 85 a roma con il 90 in quarta posizione il 90 su roma da quella spia si è ripetuto proprio sulla ruota di roma ecco perché io faccio continuare le mie spie perché nell'arco dei 13 colpi andiamo a realizzare come minimo due vincite quindi attenzione bene a prendere sempre le mie spie abbiamo delle spie molto belle a l'attivo abbiamo Cagliari abbiamo Milano abbiamo Napoli e abbiamo le altre che stiamo continuando quindi attenzione metodi spia imbattibili unica ruota in 90 secco su unica ruota 5 ambi unica ruota modalità vincita venuta dedicata impegno di giocata e metodo importantissimo che rimane sempre vostro per sempre quindi 348 75 47 715 per accedere alle mie favolose spie cari amici che continuano a dare soddisfazioni perché quel 90 di roma tra le ruote di firenze e roma vi ho fatto vedere delle belle condizioni guardate 19 gennaio l'84 dice sì al 90 sulla ruota di roma e vi dissi firenze roma vi dissi anche che i quadri estrazionali confermano assolutamente le mie spie e così è stato cari amici così è stato quindi attenzione guardate questo quadro estrazionale cosa ci va a confermare bari napoli doppio gemello in terza 66 77 triangolo gemellare 66 77 col 66 ripetuto che alla diagonale forma un triangolo perfetto di gemelli attenzione al 90 su queste due ruote bari ripetizione e napoli abbiamo la spia 61 chi non l'ha presa la prenda perché andiamo a sbancare gemello in terza posizione doppio gemello con di già uno è forte il doppio gemello fa paura doppio gemello unito napoli 66 77 meraviglioso attenzione è bellissima somma 90 sulla ruota di bari 66 e 24 qui succede il finimondo cari amici abbiamo in gioco la spia 49 di bari che porta il 90 ripetizione a bari state attenti napoli abbiamo la spia guardate come quadri estrazionali vanno a confermare le mie spie con le condizioni tutto perfetto tutto quadra tutto quadra cagliari l'84 dice sì al 90 quindi in conferma cagliari palermo distanza 2 a palermo 44 46 e ambo di cadenza 1 distanza 10 cagliari 51 61 con il 10 anche il segnalatore molto bello bari il 66 e cadenza 6 tra l'altro in terza quindi attenzione perché i prossimi quadra estrazionali vedremo altri bei 90 in arrivo attenzione distanza 2 a firenze 40 42 poi abbiamo l'84 dice sì al 90 ruota di genova quindi genova torino in conferma genova ce l'ho dalla spia 39 ripetizione attenzione la spia 39 torino lo chiama 51 53 torino distanza 2 attenzione ambo di cadenza 84 4 genova milano il 45 in terza posizione un altro bel segnalatore coppia milano venezia ancora fortissima con il doppio 45 milano venezia il 72 figura 9 venezia poi abbiamo l'ambo di cadenza anche milano 78 38 ma tripla cadenza 8 88 78 38 e l'88 di milano che un altro bel segnalatore ma il 45 in terza di milano è molto bello quindi attenzione palermo porta il gemello unito 11 44 il gemello in terza posizione dice sì al 90 ancora firenze roma quindi pazzesco quadro estrazionale da urlo 86 grande segnalatore anche su roma quindi è un quadro estrazionale che annuncia ancora grandissime situazioni quindi state molto attenti a seguirmi sulle mie spie sul 90 perché andiamo a sbancare nazionale 81 figura 9 in terza bellissima anche questo con il 5 e distanza 2 51 53 quindi veramente un quadro estrazionale meraviglioso che ci dà delle belle situazioni per le prossime estrazioni quindi state molto molto attenti chi fosse interessato anche i miei metodi mensili che stanno andando alla grande può contattarmi sempre via whatsapp 348 75 47 715 per avere i miei metodi o il singolo metodo o il pacchetto 10 metodi in grande promozione come anche i software attenzione la mia previsione idea vincente con un solo ambosecco a colpo secco tre ruote fisse modalità vincita venuta grandissima giocata reduce tra dicembre e gennaio di tre ambi a ruota cari amici a colpo secco potete contattarmi sempre solo via whatsapp ma attenzione perché questo quadro estrazionale la situazione più bella è proprio quella di bari napoli e vedremo cosa andrà a succedere forte anche le ruote di cagliari milano su questo 90 vedremo un po se le mie spie andranno ancora una volta a segno intanto un 90 a roma vinto dalla spia 40 di nazionale del 2 di gennaio vinto ben due volte quindi come vedete le mie spie vanno sempre alla grandissima quindi ci daremo appuntamento all'estrazione di martedì 23 gennaio con una nuova settimana di gioco vedremo cosa andrà a succedere ambo vertibili unito su firenze 24 42 anche questo molto bello con il triangolo su genoa guardate 42 isotopo che da 84 24 42 42 triangolo bellissimo e la somma 84 firenze genova in seconda poi lo porta insomma sulla ruota di genoa quindi veramente anche qui una bellissima situazione vediamo ancora cosa possiamo dire vediamo un po vediamo un po direi che abbiamo detto un po tutto la cadenza 9 in quinta venezia nazionale che molto bella 49 79 vediamo se c'è ancora qualcosa direi di no quindi ci daremo appuntamento all'estrazione di martedì per adesso saluto a tutti i vistas banco